ciao ragazzi sono sabfab come va benvenuti al terzo di questi cinque video durante i quali appunto stiamo raccontando mettendo in luce quelle che sono delle particolarità delle stranezze delle pazzie della nostra amata lingua inglese ma andiamo subito alla prima curiosità di oggi le parole coom e cruth entrambi di origine gallese ma comunemente accettate al giorno d'oggi nella lingua inglese sono le uniche parole appunto della lingua inglese moderna ad avere al proprio interno una w che venga appunto pronunciata u allungata in questo caso chiaramente e che si può quindi considerare come una vocale all'interno della parola quindi coom e cruth seconda particolarità di oggi la parola is my and is my sono le uniche due parole in lingua inglese formate da sei lettere le quali inizino con una vocale che terminano con una vocale e che non abbiano al suo interno nessun altra vocale pretty cool huh terza curiosità di oggi se vedete questa frequenza di parole in sovraimpressione vi renderete conto come si trattino appunto di parole che si formino una dopo l'altra grazie all'aggiunta ogni singola volta di una letterina in più rispetto alla parola precedente dateci un'occhiata è veramente molto divertente mettete magari il video in pausa quarta e penultima curiosità di oggi sono le due paroline underground and underfund ovvero le uniche due parole in lingua inglese che iniziano con and e finiscono con and und und ultima curiosità di oggi è il plurale della parola stewardess appunto stewardesses che risulta essere in inglese la parola più lunga che si è in grado di poter type stavo per dire in inglese scrivere a macchina o a computer insomma quella tastiera unicamente con la mano sinistra ovvero la parola più lunga che si riesca a scrivere esclusivamente con la mano sinistra con una tastiera che dire ragazzi spero che questo ulteriore video vi sia piaciuto se è così mettete un bel pollice in su condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al mio canale e non mancate il mio prossimo video che sarà domani buon venerdì sera ciao ragazzi sabfab buon venerdì buon venerdì buon venerdì grazie a tutti